Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio soprattutto ai nostri telespettatori, si hai detto bene, in realtà la festa, così la possiamo chiamare, è proseguita proprio qui davanti ai cancelli della Riello perché il segretario Landini e tutta la Camera del Lavoro di Pescara hanno deciso di festeggiare tra i lavoratori in difficoltà come sono quelli della Riello ma non solo, anche quelli della Brioni arrivati qui proprio l'anniversario, i 75 anni dalla fondazione della CGL di Pescara. Andiamo subito ad ascoltare le parole di Landini che ha parlato, come vi ho detto, della vertenza Riello, della vertenza Brioni e ha fatto un cenno anche agli interventi che secondo lui il governo dovrebbe mettere in campo sia per le politiche industriali sia con una legge contro le delocalizzazioni, sentiamolo. Sì, credo che ci sia bisogno da un lato di un provvedimento legislativo che vincoli le multinazionali a trovare soluzioni e a garantire continuità produttive proprio per impedire che ci sia un utilizzo delle nostre competenze, delle competenze dei lavoratori che poi vengono disperse ed è localizzate in altri luoghi. Per questo c'è bisogno di intervenire, di impedire che se ne vadano semplicemente licenziando, ma impegnando anche queste multinazionali a trovare soluzioni industriali anche sul territorio e a dare una continuità produttiva e occupazionale. Dunque queste le parole di Landini che ha tenuto un comizio proprio qui davanti i cancelli dell'Ariello dove c'erano i lavoratori ma anche alcuni esponenti politici del centro-sinistra. Adesso andiamo ad ascoltare proprio la voce dei rappresentanti dei lavoratori, dei sindacalisti e lavoratori della Riello e della Brioni. Vedete, è difficile vedere una collega che qui, come tante altre, ci ha rimesso la schiena in questa azienda con il lavoro, vederla piangere come una bambina di 5 anni ogni volta che parliamo di questa vicenda. Capite qual è il paradosso? Il lavoratore ricenziato che si vergogna, mentre la vergogna deve essere quella dell'imprenditore, dell'impresa che decide di delocalizzare, di mandare via senza una reale crisi effettiva. Non è facile neanche per noi affrontare questa brutta situazione. Credo che Caring debba dichiarare al momento cosa veramente ha intenzione di fare? Perché negli ultimi due piani industriali che ci ha illustrato, in quello di qualche anno fa e nell'ultimo dell'anno scorso, non si è rivelato mai un piano industriale reale. Sembrano righe scritte con inchiostro nero su carta bianca. Abbiamo ascoltato anche i lavoratori, i rappresentanti sindacali, gli RSU della CGL sia di Brioni che della Riello. Con il segretario generale della CGL Landini, nell'intervista di cui avete visto in precedenza uno stralcio, abbiamo parlato anche di quello che è accaduto a Roma, dell'assalto alla CGL, della manifestazione che ci sarà domani di risposta all'assalto che Landini ha definito fascista nei confronti della CGL, con l'unità di tutto il sindacato. Ascoltiamolo. Ci vedo un tentativo di strumentalizzare un disagio sociale che esiste, un disagio sociale che c'è, una precarietà nel lavoro che c'è, una pandemia che ha picchiato duro e che ha aumentato anche le paure e le diseguaglianze nel nostro Paese. Quindi è stato importante che siano stati arrestati le persone che hanno organizzato ed è importante che vengano applicate le nostre leggi, ma è altrettanto importante, come dice la Costituzione, l'ossioglimento delle forze che si rifanno al fascismo e che agiscono con violenza, perché è il momento anche che lo Stato e la democrazia dimostri la sua forza. E dunque Landini, come avete sentito, ha parlato di democrazia e lo aveva fatto anche nell'Alexio Magistralis, se la regia è pronta può mandare anche le immagini di questa mattina all'auditorium Petruzzi di Pescara, dove la mattinata pescarese di Landini era iniziata. Landini si è rivolto agli studenti e ha parlato loro con un lungo intervento anche dei temi che sono in agenda in questo momento, della centralità del lavoro, dell'antifascismo, dei valori democratici e della Costituzione. State vedendo proprio le immagini di Landini che arriva all'auditorium Petruzzi. Jacopo? Peraltro Alfredo, in una visita contestuale al primo giorno, lo ricordiamo, di obbligo di Green Pass per i lavoratori, che ha suscetato parecchie polemiche, una visita anche simbolica da parte di Landini, al di là delle vertenze Riello e Brioni, che sono importanti, centrali per il lavoro della nostra regione, però essendo il primo giorno, oggi 15 ottobre, il primo giorno di obbligo del Green Pass obbligatorio per i lavoratori, una visita non casuale. Sì, tra l'altro Landini, in una parte dell'intervista che non abbiamo ascoltato, ha parlato anche chiaramente di questo e ha invitato il governo a calmerare i prezzi dei tamponi, ad una riflessione più in generale, fermo restando che Landini è assolutamente favorevole al Green Pass e alla vaccinazione, ma vista anche la percentuale, certo non elevatissima, ma che esiste di persone che non hanno fatto il vaccino, secondo il segretario della CGL sarebbe necessario anche abbassare il costo dei tamponi per consentire ai lavoratori di effettuarli, tra l'altro Landini ha anche lanciato la proposta di far pagare i tamponi alle aziende perché, ha detto Landini, il lavoro è un diritto e non deve essere tolto per un tampone o per un vaccino non effettuato.